È un momento importante perché con il passaggio delle consegne si sottolinea da un lato la continuità dell'operato associativo, mentre dall'altro si salutano le peculiarità individuali di chi appunto si avvicenda in qualità di presidente. E quello uscente del Lions Club Gubbio Host, Virgilio Lispi, ha dato il benvenuto a Carlo Giulie, che traghetterà il club nella prossima annata lionistica 2015-2016. Erano presenti anche la presidente del Lions Club Gubbio Piazza Grande, Rita Cecchetti, e la presidente di zona Pina Volpi. Come di consuetudine lispi ha ricordato il lavoro svolto nell'annata appena terminata, che tra le varie attività messe in campo ha visto concentrati i maggiori sforzi nell'organizzazione del XII Congresso Internazionale delle città murate Lions, un evento che ha raccolto davvero un antevole successo grazie alla collaborazione di molti, tra istituzioni e realtà private e ovviamente degli stessi soci. La serata è stata anche felice occasione per l'ingresso di tre nuovi soci, Elisa Bernardini-Chiocci, moglie del compianto, amico e socio del club Gianfrancesco Chiocci, Giuseppe Minelli e Fausto Marionni. È stato altresì ufficializzato l'ingresso di Vittorio Ferrucci, trasferitosi dal club di Umberti e dal Gubbio Ost. Dunque molte sono le nuove forze su cui il club potrà contare per continuare a svolgere i service che caratterizzano il suo operato l'aionistico, rivolto al mondo intero ma con un particolare interesse alle realtà locali.